Da tre anni è consuetudine per Brescia Mobilità presentare rapporto sull'anno passato in occasione dell'approvazione dei bilanci consolidati del gruppo. Un compito complicato è quello di Brescia Mobilità che deve svolgere tutti i servizi riguardanti la mobilità pubblica, lavoro incrementato dalla realizzazione della metropolitana. L'impegno è stato indirizzato soprattutto alle migliorie e alle opere collaterali della metro che sarà completata entro il 2012. Il gruppo è impegnato anche in altre attività, alla realizzazione e riorganizzazione dei parcheggi, alla gestione del sistema sosta e alla mobilità periurbana. Inoltre il gruppo si sta occupando della costruzione della nuova piscina di Monpiano, la vecchia si è dovuta demolire per far passare la metro e del parcheggio Fossa Arnaldo che entro o fino a estate sarà completato nella sua parte strutturale e a fine anno consegnato i Bresciani. Noi da tre anni abbiamo questa abitudine di presentare il rapporto sull'anno precedente in occasione dell'approvazione dei bilanci consolidati del gruppo. È credo un dovere etico nei confronti della città per aziende che sono sì società private dal punto di vista organizzativo ma pubbliche dal punto di vista dei capitali e che quindi devono rispondere alla città di quanto fanno. In particolare il nostro gruppo composto da Brescia Trasporti, Sintesi, OMB oltre che della capogruppo Brescia Mobilità svolge un compito delicato che è quello di organizzare tutti i servizi della mobilità urbana compresa la realizzazione della metropolitana che nel 2011 ha avuto un'importante riorganizzazione dovuta all'accordo trovato con l'ATI per la definizione delle vecchie riserve economiche ma anche e soprattutto per la definizione di nuovi lavori e migliorie complessive all'opera che nel corso del 2012 verrà completata e che ci vede impegnati adesso e questo è proprio il lavoro che abbiamo presentato oggi nella realizzazione delle opere complementari cioè quelle opere di sistemazione delle aree esterne alla metropolitana che sono in qualche misura funzionali a creare interscambio fra l'area esterna e l'infrastruttura metropolitana stessa. Il gruppo poi è impegnato in molte altre attività nella riorganizzazione dei parcheggi, nella realizzazione di alcuni parcheggi, nella gestione del sistema della sosta oltre che della mobilità periurbana. Quindi un gruppo complesso con oltre 800 dipendenti che opera quotidianamente a servizio della città e dell'ambito periurbano migliorando evidentemente complessivamente il livello di servizio in previsione dell'arrivo di una grande infrastruttura come quella della metropolitana che ha bisogno di livelli di efficienza assolutamente altissimi. Evidente che sono opere che completano l'asset generale del patrimonio immobiliare anche del Comune che peraltro dal primo di gennaio è passato a Brescia Infrastrutture e quindi vede Brescia Mobilità impegnata quotidianamente come soggetto realizzatore di queste opere.